salve a tutti questo è un antenato dei notebook un olivetti m10 del 1983 ha quindi più di 40 anni in effetti è stato uno dei primi notebook esistenti il primo della olivetti in quegli anni olivetti stava tentando di passare dai dispositivi meccanici dove aveva una lunga esperienza a quelli elettronici che era già chiaro avrebbero dominato il mercato in futuro olivetti lanciò una campagna pubblicitaria sul pc m10 che coinvolse tutti i concessionari e il pubblico lo slogan era l'ufficio da viaggio con cartelloni locandine volantini gadget vari è stato uno dei pionieri del concetto di un pc non più fisso in caso in ufficio ma che si possa portare comodamente con sé l m10 rimase in produzione per due anni nel 1983 ne furono venduti 24.000 pezzi conquistando il 70 per cento del mercato italiano il 22 per cento del mercato europeo un ottimo risultato ma erano gli albori e con pochi concorrenti l'anno seguente le vendite furono insoddisfacenti e si smise la produzione non era in effetti un modello interamente prodotto da olivetti ma era un clone del kyocera kyotronic kc 85 con qualche modifica come lo schermo inclinabile di 30 gradi per facilitare la lettura del display lcd monocromatico da 8 righe a 40 caratteri 240 per 64 pixel non è una gran risoluzione lo schermo dei notebook attuali è evidentemente più prestante l m10 ha una cpu 80 c 85 di occhi a 2,4 megahertz quindi un migliaio di volte inferiore rispetto a una cpu attuale una ram di 8 kb espandibile fino a 32 kb tramite questi moduli nel 2024 una ram media potrebbe essere di 4 gigabyte quindi qualche centinaio di migliaia di volte più potente non c'è un hard disk i file vengono salvati sulla ram che viene alimentata dalla pila può funzionare con quattro batterie stilo da un volta e mezzo con una durata rilevante di 20 ore di lavoro qui invece la durata è superiore alla durata media di un notebook attuale sul retro ci sono alcune porte c'è una porta seriale rs232 25 poli a cui si può collegare un modem un apposito copiatore acustico a 300 baud questo modello mc 10 circa 500 volte più lento di una connessione media attuale gli si posizionava sopra una cornetta telefonica come questa ci si collegava tramite una linea telefonica e si caricavano e scaricavano i dati da un altro pc remoto e una cosa piuttosto lenta eventualmente si poteva collegare le m10 a un altro pc anche tramite un cavo seriale apposito con collegamento diretto come quello che si può fare attualmente coi cavi di rete incrociate c'è una porta parallela non standard a cui si poteva collegare questa stampante a quattro colori con connettore centronics che stampava su rotoli di carta tramite quattro pennini di colore diverso e una stampante grafica che funzionava anche a batterie sembra una buona cosa ma per usare la stampante con la m10 dovevate usare i comandi del programma basic quindi scordatevi la vostra confortevole icona con la stampante dei file windows e cominciate a studiare parametri di stampa sul manuale questa è una porta speciale per collegare un lettore a nastro per registrare o scaricare dati si avete capito bene si registravano i dati sulla normale cassetta utilizzando un mangianastri lo si può fare tramite un apposito cavo e si può usare un normale registratore mono con le prese jack 3 e millimetri e mezzo registra su una normale cassetta come quelle musicali quindi questa era la chiavetta usb degli anni 80 o un harddisk portatile se volete un po' ingombrante ma con questo potete anche ascoltare la musica mentre con una chiavetta usb no comunque ammetto che non sia molto comodo tramite questa porta si può collegare un lettore codice a barre seriale si può fare anche con i notebook moderni ma con la porta usb insomma una serie di porta abbastanza versatile la m10 aveva alcuni programmi in dotazione text un word processor con funzione di copia e incolla un antenato di window world il testo rimaneva registrati in memoria fino a quando non si scaricavano le pile o non veniva registrato su un registratore musicale ora è decisamente più facile si potevano scrivere testi con una serie di caratteri molto varia si possono memorizzare al massimo 19 file i file aggiunti vanno memorizzati su un lettore di cassette musicali come spiegato prima se dovete cancellarne uno dovete usare un comando di programmazione basic quindi scortatevi il bidoncino di windows e studiate il manuale addres è una rubrica per indirizzi numeri telefonici nel 1983 non c'erano gli smartphone quindi una rubrica telefonica era necessaria visto che i numeri non erano registrati sul telefono scheda è un'agenda per gestire gli appuntamenti visto che veniva pubblicizzato come un ufficio da viaggio è un'ottima idea telcom è il software di telecomunicazione per interscambio dati tramite il modem mc10 che abbiamo visto sopra anche qui scordatevi le connessioni automatico delle reti wireless e cominciate a leggere le pagine sul manuale dedicata alla connessione dopo tutto per stabilire una connessione di rete ci sono solo 10 pagine di istruzione da seguire si doveva impostare la modalità se terminal o entry la quantità di dati trasmessa per ogni pacchetto full duplex alf duplex velocità di modulazione larghezza di parola parità bit di stop stato della linea fare il login sul sistema ospite e procedere al download o all'upload del vostro file insomma le cose erano un po complicate di adesso basic essenzialmente un software di programmazione prodotto da microsoft questo software fu anche l'ultima applicazione sviluppata personalmente a bill gates nei notebook attuali non si pensa che uno debba farsi programmi da solo ma nel 1983 le cose erano diverse veniva fornito col notebook un manuale di 179 pagine con tutte le istruzioni per la programmazione e ovviamente ci si aspettava che prendeste dimestichezza con i 116 comandi di basic e magari anche quei 52 codici di errore giusto per vedere come funziona alcuni comandi divertenti sono sound potete fare della musica ad ogni sequenza numerica corrisponde alla tonalità per esempio il 9394 è un do a due ottave per un tempo determinato o se volete che il pc faccia bip l'olivetta m10 soffre del millennium bug vengono infatti utilizzate solo le ultime due cifre per memorizzare l'anno quindi se imposto una data del 2024 col comando date l'm10 pensa che siamo nel 1924 per usare un notebook nel 1983 dovevate diventare dei programmatori ora i programmi sono già pronti per l'uso la prossima volta che vi lamentate del vostro notebook pensate alle loro prestazioni del 1983 buona giornata